Questa manifestazione non è contro lo Stato, assolutamente, anzi abbiamo molto rispetto delle autorità e sicuramente non entriamo nel merito di un provvedimento di cui ancora non conosciamo le motivazioni. Stiamo manifestando un diritto riconosciuto costituzionalmente, di gratitudine nei contanti di un'amministrazione che con dati oggettivi ha fatto tanto per la città, ha ridato dignità ai luoghi, ha dato la possibilità a tutti di poter lavorare quindi garantendo un diritto al lavoro anche a quelle fasce disalciate della comunità. Ha dato merito e riconoscimenti grandissimi alla città, sono stati ottenuti riconoscimenti anche internazionali. Oggi ci sentiamo di dire grazie a questa amministrazione che ha veramente portato il nome di Tropea, della Calabria e dell'Italia intera per la buona amministrazione in tutto il mondo. Non abbiamo altro da dire che grazie al sindaco Giovanni Macri.